Uovo di Pasqua, che colore vuoi? Voglio il rosso, colorami se puoi Certo che potrò, io ti colorerò Con il mio pennello tutto rosso ti farò Rosso, 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 rosso ti colorerò Rosso, 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 tutto rosso ti farò Uovo di Pasqua, che colore vuoi? Voglio il giallo, colorami se puoi Certo che potrò, io ti colorerò Con il mio pennello tutto giallo ti farò Giallo, 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 giallo ti colorerò Giallo, 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 tutto giallo ti farò Uovo di Pasqua, che colore vuoi? Voglio il viola, colorami se puoi Certo che potrò, io ti colorerò Con il mio pennello tutto viola ti farò Viola, 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 viola ti colorerò Viola, 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 tutto viola ti farò Uovo di Pasqua, che colore vuoi? Voglio il verde, colorami se puoi Certo che potrò, io ti colorerò Con il mio pennello tutto verde ti farò Verde, 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 verde ti colorerò Verde, 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 tutto verde ti farò Uovo di Pasqua, che colore vuoi? Voglio il rosa, colorami se puoi Certo che potrò, io ti colorerò Con il mio pennello tutto rosa ti farò Rosa, 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 rosa ti colorerò Rosa, 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 tutto rosa ti farò Ciao bambini! Vi è piaciuto questo video? Allora mettete mi piace e seguite il canale di Alman Kids Per non perdervene neanche uno Seguitemi anche sul mio sito web lucillakids.com E inviatemi i vostri messaggi e i vostri disegni Su Facebook e Instagram Vi aspetto! Ciao ciao! Ciao ciao!